Musica Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto abbiamo anche quest'oggi la pagina informativa di Telepadova 7 Gold con l'approfondimento che in questa settimana che si avvicina al 4 marzo ovviamente è integramente dedicata alle elezioni e alla conoscenza di candidati, partiti e movimenti anche quest'oggi due appuntamenti nel primo diamo subito il buongiorno a Paola Goisis buongiorno e ben trovata buongiorno, buongiorno a tutti per Grande Nord e parliamo dunque allora del suo movimento parliamo di lei innanzitutto insegnante che a Roma diciamo ha già frequentato abbastanza anche a Roma dove ho dovuto constatare che non c'è assolutamente nessuna volontà di prendere così in petto come si dice prendere a cuore quelli che sono i problemi del Nord ormai il Nord è stato abbandonato ed è per questo che noi abbiamo costituito Grande Nord e siamo qua per questo Grande Nord appunto due parole è già uno slogan di suo sostanzialmente sì certo, Grande Nord possiamo dire in due parole è una confederazione nella quale sono confluiti tanti partiti per esempio per quanto riguarda il Veneto partiti indipendentisti coloro che per tanti anni hanno creduto e credono ancora questa è veramente la caratteristica fondamentale credono ancora ai principi di indipendenza principi di autonomia e principi di pensiero rivolti in modo particolare al Nord e alla gente del Nord ecco, ci porterebbe molto lontano però due parole vanno dette insomma dove è stata quindi il momento di divisione se vogliamo della Lega Nord? beh, diciamo quando hanno fatto quel complotto contro Bossi da quel momento è crollato tutto tanto è vero che nel giro di due o tre anni come appunto abbiamo visto si è cambiato perfino lo slogan di quella che una volta era la Lega Nord adesso l'hanno, come dicevo prima anche proprio dimenticato il Nord così per una prospettiva di pensando di andare a ottenere voti in più ma dove vanno a ottenere i voti in più? vedo, hanno tanto celebrato la vittoria in Sicilia per esempio ma anche quella che è adesso la Lega, non vorrei neanche nominarla non ha detto a quelli del Nord o comunque ai suoi sostenitori che con questa vittoria tutti noi si sono garantiti il debito di 18 miliardi che dovremmo pagare il debito di 18 miliardi della Sicilia o il fatto che dovremmo continuare a pagare chissà per quanti anni ancora i 25 mila forestali o lo stesso i 28 mila che sono impiegati impiegati appunto della Sicilia perché come sappiamo la Sicilia è stato tutto speciale è evidente che ha tutto in modo speciale quindi questa rinuncia che io in modo particolare ma tutti noi abbiamo vissuto come un tradimento ecco non poteva così tenerci fermi e noi abbiamo sempre cercato di vedere se si poteva ricostituire se si potevano riprendere in mano quelli che erano appunto i principi e gli ideali di 25-30 anni ma questo è stato impossibile allora ci siamo ritrovati in tante persone che credono ancora a quegli ideali quei principi e abbiamo pensato proprio di prendere in mano grande perché grande nord perché quel nord dimenticato e bistrattato deve tornare ad essere il pensiero fondamentale insomma sia dei politici che di tutti coloro che ci credono venendo al programma il residuo fiscale si può dire che sia la parte principale della battaglia esatto poter tenere il residuo fiscale questo è fondamentale sia per quanto riguarda il Veneto sia per quanto riguarda la Lombardia anche abbiamo visto se è vero come è vero che in queste due regioni abbiamo 50 miliardi di residuo fiscale con il residuo fiscale potendo gestire il residuo fiscale non ci sarebbe più bisogno di nessuno che venisse a dirci che cosa dobbiamo fare perché saremo in grado di portare avanti tutte quelle motivazioni e sociali e di cultura di istruzione di anche credibilità per quanto riguarda l'Europa Europa che ormai non ci crede a noi non crede assolutamente più e quindi voglio dire il residuo fiscale deve essere accettato deve essere non so con la richiesta di autonomia cosa si otterrà si otterrà io non ci credo molto ecco perché noi può essere un primo passo l'autonomia ma bisogna che sia un'autonomia reale cioè dove questo residuo fiscale sia gestito o dai Veneti o dai Lombardi o dai Piemontesi eccetera eccetera da tutti coloro che si riconoscono in questo grande nord ecco l'Europa diceva la vostra idea di Europa e dei rapporti con l'Europa sì i rapporti con l'Europa per carità noi capiamo che oggi sarebbe impossibile uscire dall'Europa però rivendichiamo però che l'Europa ci dia la giusta considerazione perché l'Italia purtroppo come abbiamo visto un sacco di volte abbiamo visto anche la grande crisi lì di quando poi è stato cambiato in pratica il governo con Monti eccetera il famoso spread che è balzato alle stelle balzato alle stelle non per nulla ma perché l'Europa non ha più voluto acquistare i titoli di Stato cioè ci ha fatto un debito di quelli enormi che ha contribuito a aggravare ancora di più la nostra situazione infatti sono quasi cinque anni che siamo in una difficoltà tremenda insomma proprio per questo perché l'Europa non ci dà la giusta considerazione noi vogliamo quindi gestirci sia per quanto riguarda l'economia ma anche per quanto riguarda il valore politico che dobbiamo avere noi che ci sia riconosciuto insomma in Europa ma negli Stati Uniti ma ovunque nel mondo non possiamo permettere di essere considerati come la zavorra dell'Europa anche perché la maggior parte del lavoro e del peso così per esempio dell'immigrazione l'hanno lasciato tutta l'Italia allora c'è bisogno di immigrazione ma che sia quella regolata che sia per i veri profughi e che sia rispondente a determinate esigenze perché è inutile fare venire per esempio a Conaca o Netta o dove sia fare arrivare centinaia centinaia migliaia di estere comunitari che poi non hanno nemmeno un minimo di dignità ma che poi spesso delinquono bisogna dirlo insomma non è una cosa da dimenticare nel Grande Nord ci sono grandi imprese e anche la piccola e media impresa il vostro pensiero per quanto riguarda il sostegno al lavoro il sostegno al lavoro il sostegno al lavoro deve essere fondamentale per esempio noi vogliamo anche attuare delle politiche tali per come dire invertire l'azione che è stata portata avanti dalla regione Veneto purtroppo lo devo dire la regione Veneto ha non so se ce l'abbia ancora ma ha una società che si chiama Finest che è quella che come dire invita e gli imprenditori del Nord ad andare a delocalizzare io credo che sia la più grande voglio usare parole grosse ma la più grande sciocchezza che si sia potuta fare invece noi vogliamo invertire questa situazione e invece dire che se mai si daranno tutti si prenderanno tutti gli accorgimenti perché i vari imprenditori piccoli e medi imprenditori che se ne sono andati possano ritornare ritornando danno lavoro ci lamentiamo che non c'è lavoro facciamoli ritornare diamo a loro dei sistemi tali di defiscalizzazione o di favorire per esempio nuovi posti di lavoro ecco che allora i nostri ragazzi avranno il lavoro non saranno costretti ad andarsene ecco che allora non avremo più imprenditori che si suicidano quando io era a Roma quasi ogni settimana mi alzavo e chiedevo la parola per dire anche questa settimana abbiamo avuto l'ennesimo suicidio di Stato perché quando quando un'impresa quando una famiglia viene oberata in quel modo come appunto abbiamo assistito a cui abbiamo assistito è evidente che non è più come dire motivo di depressione personale veramente sotto c'è qualcos'altro e questo qualcos'altro è responsabile sono anche le crisi della famiglia in questo periodo di difficoltà con la famiglia come si interviene posso dire una cosa prima che voglio ricordare che con me qui soprattutto in provincia di Padova ci sono altri due candidati che oggi sono al lavoro che quindi non potevano essere presenti appunto Roberta Travaglia che diesta anche lei come me e Antonio Zanchin che è un altro imprenditore quindi siamo in tema anche ecco per venire alla famiglia allora come si fa? io mi chiedo tante volte dico secondo me devono essere in malafede coloro che continuano a dire siccome nascono pochi bambini bisogna fare arrivare c'è la denatalità in Italia che è chiaro e che continua anche ad aumentare questa denatalità e allora bisogna fare venire gli esseri comunitari che vengono a sopperire alla mancanza dei nostri dei nostri bambini voglio ricordare anche che con le politiche abortistiche ci sono stati almeno 5 milioni di bambini non nati che poi quei 5 milioni di bambini non nati sono stati come dire sostituiti da 5 milioni di esseri comunitari che sono qua che lavorano anche e si continua però a farne arrivare altri allora io non per carità anche se tanti mi dichiaravano razzista perché le nostre idee secondo loro erano razziste ma non possiamo permetterci che insomma anche la nostra la nostra gente sia sempre di meno sempre di meno sempre di meno se è vero che nel 2050 è stato detto non ho mica detto io forse il 30% degli italiani non saranno diciamo come noi ecco lei insegnante questo discorso che stava parlando si applica anche alla scuola nel senso appunto che cambiamento ha visto io credo di essere stata una degli antesegnani come si dice di coloro che hanno avuto nella propria classe un ragazzo che veniva dall'Africa altri due o tre che vengono che venivano adesso sono anche sono di più ma io parlo già di 15 anni fa e quindi non ho mai fatto discriminazioni assolutamente anzi mi mi proponevo anche per fare delle ripetizioni in più aiutarli insegnare però insegnando le regole il rispetto sia per gli insegnanti che per gli altri ragazzi per tutto ciò che è appunto essere Italia essere italiani essere Nord essere Veneti e la prima cosa però fondamentale per poter arrivare a questo è lo studio della storia lo studio della nostra identità l'accettazione voi venite qui dovete accettare la nostra identità naturalmente mantenendo la vostra nessuno dice di no ma la nostra storia la dovete conoscere la gloria le glorie della serenissima Repubblica la dobbiamo riconoscere e dobbiamo farla anche apprezzare a chi non la conosce d'altra parte il compito degli insegnanti è proprio questo far conoscere ciò che non si sa e siccome adesso vediamo che anche nella scuola vengono ridotti i programmi addirittura ho letto spero che non sia vero che il ministro Fedeli vuole eliminare dagli esami di maturità la prova di italiano io ritengo che sia un'assurdità ma grande anche perché assistiamo un'altra cosa tragica la troppa presenza del se si può dire del del tablet dell'internet dei social come si chiama i ragazzi nostri non sanno più leggere addirittura c'è uno studio che dice che il 70% di coloro che leggono non sanno neanche che cosa hanno letto non sanno riferire il contenuto della lettura che hanno appena fatto e questo sicuramente per me è colpa della scuola della scuola prima di tutto deve essere insegnamento la grammatica i congiuntivi i gerundi visto che ormai sono diventati un optional ecco quindi se noi avessimo in mano la scuola io avevo fatto anche delle proposte per gli insegnanti del nord questo non significava non accettare anche gli altri però tu che vieni a insegnare qui da me mi devi dimostrare che conosci la nostra storia che conosci la nostra identità e devi valorizzarle perché altrimenti se non è l'insegnante che valorizza questo chi lo può fare deve essere l'insegnante il tempo corre in un minuto si riesce a parlare di sanità ecco la famiglia l'avevamo parlando uno e uno esatto allora per quanto riguarda la famiglia la famiglia per noi deve essere valorizzata ma a monte e in modo concreto siamo arrivati alla denatalità proprio partendo dalla famiglia è vero non nascono più comunque pochi bambini ma allora perché non si fa una politica sociale una politica di di rafforzamento proprio così come fanno in Francia per esempio alle mamme danno la possibilità di addirittura danno dei finanziamenti perché le mamme possano fare figli avere dei figli e poi la Francia sostiene la famiglia anche lungo tutto l'arco insomma diciamo del periodo in cui i bambini sono piccoli e poi devono andare a scuola eccetera eccetera se non si fa questo è evidente che le famiglie che sono obbligate ad avere marito e moglie che lavorano non possono avere figli anche se magari lo vogliono quindi e poi l'altra cosa la famiglia la famiglia almeno da quanto noi conosciamo padre e madre insomma ecco per l'altra la sanità il minuto tondo tondo della sanità ho letto in questi giorni che la regione Veneto ha approvato una norma che è passato ai dottori invitando i medici a non far fare raggi o risonanze magnetiche alle persone che abbiano più di 65 anni anzi più dai 65 anni se mai fare queste cose queste questi insomma raggi almeno dopo sei mesi da quando si è manifestata diciamo la patologia mi chiedo a che pro cui pro dest a chi farli morire prima nella sanità che voi pensate non ci sono soluzioni di questo tipo ma assolutamente anzi io credo che per gli anziani bisogna avere la maggiore attenzione bambini cioè i più deboli come si dice i bambini e gli anziani perché gli anziani sono anche quelli che hanno costituito poi la nostra storia la nostra società con tutti i difetti che ha ma ha sostenuto anche l'economia e così quindi e poi naturalmente le mamme amano a mano coloro i lavoratori perché no anche i lavoratori cioè ognuno ha diritto all'assistenza sanitaria questo è un principio della Costituzione al quale noi non mancheremo assolutamente e non potremo mai andare contro e siamo così alla seconda parte di sette in punto un altro candidato una buona contrapposizione possiamo dire siamo con Alberto Ruggin candidato per Più Europa con Emma Bonino buona giornata buongiorno grazie per l'invito occasione in questo quarto d'ora dunque per approfondire alcuni temi legati alla vostra lista innanzitutto come è collocata nello schieramento allora Più Europa con Emma Bonino ha scelto non di coalizzarsi e questo tengo veramente a sottolinearlo ma di apparentarsi con il partito democratico perché noi pensiamo che in questo momento la scelta che gli italiani si troveranno ad affrontare non è tanto tra centrodestra e centrosinistra ma più che altro da due idee differenti di futuro di Europa due idee che una vuole guardare appunto alla libertà una che vuole guardare ai diritti e una che invece vuole rivedere quelle libertà e quei diritti che sono stati conquistati negli anni precedenti addirittura parlando di protezionismo di dazzi o proprio di togliere determinate libertà civili che sono state conquistate negli anni scorsi è un doppio messaggio quello che ha nella spida ma comunque nel vostro simbolo sostanzialmente quindi Emma Bonino è un simbolo vero e proprio che un simbolo sicuramente anche dell'Europa stessa con la sua esperienza che ha avuto come commissaria appunto presso la Commissione Europea negli anni scorsi è una fonte di garanzia e sicuramente è una fonte di ragionevolezza e di concretezza e sicuramente penso che la figura di Emma Bonino possa dire chiaramente in maniera trasparente come stanno le cose rispetto a una classe dirigente politica che sia nel centro-destra e in parte anche nel centro-sinistra purtroppo vive tuttora di slogan noi pensiamo che questa sia la campagna elettorale dove ne stiamo vedendo di tutti i colori dal punto di vista delle promesse elettorali e pensiamo che invece bisogna smetterla di prendere in giro gli italiani e dire le cose come stanno sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista proprio di quello che è veramente la sfida che ci troviamo oggi da affrontare dal punto di vista politico interno internazionale soprattutto questa corsa elettorale e tempi molto stretti che presa hanno verso l'elettorato che incontri state facendo e che risposte avete soprattutto allora non le nego che le risposte sono molto soddisfacenti se purtroppo siamo in un periodo in cui non possiamo parlare di sondaggi perché la legge ce lo vieta però se ci ricordiamo bene rispetto all'inizio che siamo partiti tre mesi fa con questa avventura politica il consenso l'abbiamo visto sia diciamo nei vari circoli dove noi ci troviamo nei vari comitati nelle varie città nei vari banchetti nelle piazze è molto ampio e non le nego che c'è sicuramente una larga parte di elettorato di centro-sinistra deluso dal centro-sinistra dal partito democratico ma anche un elettorato disorientato un elettorato anche deluso da un certo modello di rivoluzione liberale del centro-destra che non si è mai vista concretizzare negli anni scorsi quindi diciamo che l'elettorato potenziale di questa lista più Europa è molto più eterogeneo di quanto possa sembrare non abbiamo detto dove è candidato io sono candidato per quanto riguarda il plurinominale a Padova e provincia quindi per la Camera di Deputati nella zona della bassa padovana e al confine con Venezia c'è un comune in particolare cona conetta una base qui si parla appunto di immigrazione ma soprattutto di una situazione abbastanza complessa ecco da questo punto di vista le vostre idee nei programmi i progetti per quanto riguarda l'immigrazione ma anche diciamo l'accoglienza in senso più generale allora io parlo perché ho lavorato a Cona quindi posso parlare diciamo come fonte diretta e ho visto con i miei occhi quello che accade sia all'interno di questi grandi centri ma io adesso non lavoro più all'interno dei grandi centri lavoro in un progetto di micro-media accoglienza e le posso dire che sicuramente il modello da seguire è la micro-accoglienza l'accoglienza diffusa è quella che noi continuiamo a dire e sostenere che deve essere il modello da seguire però la realtà di fatti è che purtroppo ancora adesso circa il 60% dei comuni italiani non ospita neanche un richiedente asilo quindi ci troviamo di fronte a tanti comuni che non si occupano dell'accoglienza e ci troviamo ad avere questi grandi centri che non fanno accoglienza perché oggettivamente avere centinaia di persone all'interno dei grandi centri non dà una buona qualità e soprattutto non darà una possibilità di dare un futuro e una vera integrazione a queste persone quindi questi centri vanno sicuramente rivisti se non a diritto chiusi per appunto provare a gestire l'accoglienza in micro progetti di micro-accoglienza nei comuni e penso che tutti i comuni attraverso il sistema SPRAR debbano assolutamente collaborare su questo Questa è una qualcosa che si risolve in Italia e basta oppure anche l'Europa da questo punto di vista in qualche modo dovrebbe dare delle indicazioni non so dico io diverse Certo se il ministro dell'interno dell'epoca l'allora ministro Maroni non avesse sottoscritto il trattato di Dublino che è un trattato dal punto di vista dell'Italia suicida nel senso che è un trattato che impone all'Italia di trattenere nel proprio territorio tutti i richiedenti asilo che arrivano come primo paese d'approdo nell'Italia quindi è veramente un trattato molto pericoloso e deve essere assolutamente rivisto dei primi passi sono stati fatti con la relocation quindi già adesso ci sono i primi rifugiati che vengono ricollocati in tutti i paesi dell'Unione Europea questa è la direzione che deve essere seguita e sicuramente l'immigrazione è un fatto strutturale che nei prossimi decenni dovremo gestire senza demagogia con pragmatismo perché? perché anche il centrodestra in passato si è trovato a doverlo gestire questo fenomeno voglio ad esempio ricordare che nel 2011 con le primavere arabe il centrodestra diede permessi di soggiorno per motivi umanitari a tutti i richiedenti asilo che arrivavano nelle coste italiane noi diciamo che hanno fatto bene come hanno fatto bene a fare le più grandi sanatorie della storia d'Italia nel 2003 e nel 2008 quando furono regolarizzati circa 850.000 clandestini noi diciamo che il centrodestra all'epoca fece bene anzi il centrodestra ha fatto male in questi ultimi anni a non gestire un problema che adesso si sta di nuovo ripresentando che è quello dell'immigrazione cioè degli immigrati irregolari che sono quelli che non hanno ottenuto nessuna forma di permesso di soggiorno quindi la legalità sempre deve esserci in uno stato di diritto perché se non c'è legalità c'è illegalità e quando c'è illegalità sappiamo dove si inizia e non sappiamo dove si finisce Più Europa è un concetto valido per tutti i campi o meglio sono tutti i campi che sono presenti nel vostro programma credo di sì perché Più Europa senza ombra di dubbio serve l'Italia serve l'Italia perché abbiamo visto quello che l'Italia da sola senza l'Europa ha fatto negli ultimi decenni che cosa ha fatto negli ultimi decenni pensiamo agli anni 80 quando ad esempio dopo 15 anni di contributi mandavamo le persone in pensione intanto non ci rendavamo conto che stavamo creando un debito pubblico di cui tutt'oggi noi paghiamo le conseguenze una classe politica sia di destra che di sinistra che è stata prevalentemente incapace di gestire la situazione economica di questo paese noi pensiamo che le politiche europee debbano essere rispettate e debbano essere e noi dobbiamo tornare protagonisti in Europa quindi senza continuare a dare sempre la colpa all'Europa perché se noi abbiamo il debito pubblico più grande dell'Unione Europea a parte la Grecia o abbiamo livelli di disoccupazione o abbiamo un'altissima evasione fiscale non è colpa dell'Europa è colpa dell'Italia ed è colpa delle politiche che sono state fatte in Italia negli anni precedenti quindi basta dare colpa all'Europa iniziamo a dare le colpe a noi iniziamo a cambiare modo di fare politica perché guardando appunto come obiettivo l'Europa questo crea un beneficio per l'Italia riguardo il fisco che bastona tendenzialmente insomma le imprese in particolare e i cittadini anche lì c'è qualcosa da cambiare in che modo? sì allora sicuramente la demagogia che in questo momento sta facendo il centrodestra sulla flat tax è abbastanza imbarazzante primo perché non è la prima volta che la propongono e poi l'hanno sempre disattesa ai loro elettori cioè la flat tax è stata promessa anche nella precedente campagna elettorale e anche in quella precedente del 2008 poi con la più grande maggioranza storica del Parlamento non hanno saputo mantenere questa promessa della flat tax io penso che la flat tax sia sbagliata perché non credo che sia giusto che un operaio dell'ILVA debba pagare la stessa percentuale di tasse rispetto a quella che può pagare un imprenditore con decine di aziende io penso che ci debba essere un'equa redistribuzione delle tasse anche perché voglio ricordare che la flat tax è un modello che è adottato nei paesi con scarsa democrazia penso la Russia penso l'Ucraina nei paesi più avanzati occidentali la flat tax è impensabile e assolutamente neanche presa in considerazione solo un centrodestra demagogico che in questo momento si candida a governare il paese e infatti questa cosa preoccupa abbastanza lo scenario internazionale parla di questa flat tax che è pura demagogia perché ripeto anche negli anni precedenti è stata proposta dallo stesso centrodestra e non è mai stata portata avanti l'Europa ha dato possibilità riguardo all'intervento nel sociale che magari non sono state colte dai governi precedenti ma sicuramente io voglio ricordare che l'Italia ogni anno paga una marea di infrazioni siamo il paese che paga più infrazioni all'Unione Europea perché noi disattendiamo un sacco di proposte che l'Unione Europea comunque dà delle direttive e poi noi disattendiamo totalmente tra l'altro una delle proposte che noi abbiamo dal punto di vista economico oltre il congelamento della spesa pubblica a valore nominale del 2017 per un'intera legislatura questa è la nostra proposta una proposta molto forte sicuramente non tanto popolare però noi diciamo che questo è l'indirizzo per cercare di riportare anche il debito pubblico dal 130 al 110% in un'unica legislatura e sicuramente anche il discorso delle infrazioni per le direttive dell'Unione Europea anche sul settore sociale che noi disattendiamo ogni anno può sicuramente recuperare un bel po' di soldini che possono fare bene sicuramente all'Italia per fare una politica anche sociale diversa e la famiglia in questo caso quindi anche in questo caso ci sono attenzioni particolari la famiglia ecco anche qui molto spesso si parla in maniera demagogica di famiglia la famiglia per noi innanzitutto è diciamo quando c'è un contesto di due persone che si amano a prescindere dall'orientamento sessuale questo è un punto fermo anzi noi parliamo sicuramente di estendere il matrimonio non solo le coppie eterosessuali ma anche le coppie omosessuali e anche rivedere l'istituto delle adozioni perché appunto le unioni civili che sono state fatte da questo governo uscente è sicuramente un istituto già superato un istituto che è già stato superato negli altri paesi europei perché? perché è discriminatorio se ci pensiamo che una coppia eterosessuale non può neanche fare l'unione civile perché può farlo solo una coppia omosessuale per quanto riguarda la natalità che è sicuramente uno dei grandi problemi dell'Italia anche qui bisogna essere meno demagogici e più pragmatici perché la media che noi abbiamo in Italia di figli nati è di 1,3 1,4 ma nei paesi del nord Europa dove ci sono sistemi di welfare che danno la possibilità di agevolare sicuramente le mamme a fare più figli la media è di 1,6 1,7 che non è tanto più alta io penso che le persone vadano lasciate libere libere di scegliere della propria vita del proprio corpo dei propri affetti se fare o non fare figli voglio ricordare che il primo nucleo familiare in Italia questo poco si dice è formato al 40% da single cioè da persone che vivono sole e questa tendenza sembra essere in aumento quindi abbiamo tanti modelli di famiglia in Italia non esiste il solo modello di famiglia tradizionale è anacronistico ed è anche qui demagogico parlare semplicemente di un unico modello di famiglia va sostenuto qualunque modello di famiglia sicuramente vanno mantenuti anche i bonus di incentivi alla natalità senza ombra di dubbio però non possiamo pensare che solo questi strumenti possano far cambiare le cose far aumentare i figli perché comunque è una tendenza della cultura occidentale dove al massimo si fa uno o per miracolo due figli per famiglia in tante in troppe ultime elezioni si è visto un progressivo allontanamento dalla passione del voto insomma percentuali bassissime di votanti ecco che sensazioni avete da questa breve campagna elettorale soprattutto dal punto di vista delle nuove generazioni sarà qualche possibilità che ci siano più voti questa volta c'è più partecipazione guardi le dico anche una cosa che non è diciamo a mio favore però io sono abituato a dire sempre le cose come le vedo come stanno senza io penso che gli unici due movimenti che in questo momento sono in grado di attirare il voto dei giovani sono il Movimento 5 Stelle è innegabile da un certo punto di vista e più Europa con Emma Bonino cioè questi sono i due movimenti che stanno attirando i giovani perché io le dico la verità ho girato anche in altri circoli di altri partiti di diversi schieramenti politici e sicuramente ci sono altri tipi di elettorato sicuramente più anziano più adulti i giovani secondo me sono molto divisi tra o l'astensionismo o appunto il votare un progetto più europeista sicuramente che guarda più avanti guardi io le dico anche che sul discorso dell'Europa secondo me noi abbiamo già vinto a metà perché il Movimento 5 Stelle ad esempio anche la Lega Nord non parlano più di uscire dall'Euro non parlano più di uscire dall'Europa quindi qualcosa siamo già riusciti a fare siamo già riusciti a contagiare diciamo un po' tutta la classe politica su questi temi quindi fortunatamente abbiamo già salvaguardato questi temi però i giovani sicuramente devono essere qui a Padova ad esempio noi abbiamo un gruppo che è un comitato di più Europa che è formato da giovani che vanno circa dai 20 ai 37 anni questo è sicuramente un segnale molto incoraggiante e sicuramente anche le esperienze che i giovani fanno con l'università con gli Erasmus salvaguarda proprio il concetto dell'Unione Europea come appunto obiettivo da seguire per il proprio futuro a 30 secondi esatti di messaggio libero per convincere a votare per più Europa con l'Ema Bonino ecco io dico votate più Europa con l'Ema Bonino perché appunto la libertà la libertà in questo momento la libertà dei propri diritti la libertà le libertà conquistate quello che è stato lottato per tutti questi anni in questo momento può essere messo a serio rischio da schieramenti politici che ci parlano di protezionismo tra l'altro in una realtà come quella Veneta che vive di export che vive di esportazione ecco salvaguardiamo le libertà di tutti le libertà civili l'Europa perché l'Europa in questo momento ci ha garantito per 70 anni come mai prima della storia 70 anni di pace e di benessere grazie Alberto Ruggin buona giornata e buona giornata anche a voi che ci avete ascoltato siete in punto a tornare come di consueto domattina grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti